Allora, riprendiamo il nostro discorso sulle liste, che avevamo già iniziato la settimana scorsa. Ne ho approfittato, visto che siamo arrivati a questo punto, tra l'altro non voglio spaventarvi, ma questo è l'inizio dell'ottava settimana, vuol dire che abbiamo già passato sette settimane e siamo a metà del corso, quindi questo è un giro di boa in cui manca metà del tempo l'esame rispetto a quando abbiamo iniziato, quindi è vero che manca anche meno tempo a Natale, quindi forse ci spaventa di più la vicinanza notale che non dell'esame. Visto che siamo a metà del corso, semplicemente noi abbiamo programmato di finire gli argomenti d'esame, gli argomenti del corso entro il 20 dicembre, quindi la settimana che ci sarà a gennaio sarà una settimana dedicata esclusivamente a riparsi, esercizi, esercizi d'esame eccetera e come già vi accennavo nella settimana del 20 dicembre, quei giorni lì, l'esercitazione di laboratorio verrà svolta con lo stesso sistema che useremo l'esame, quindi quell'esercitazione sarà già non diciamo della difficoltà d'esame ma quasi, perché ci mancherà ancora qualche cosina come argomenti, ma le modalità saranno le stesse. Visto che prevedo che alcuni di voi magari in quella settimana non ci possono essere, perché magari chi deve tornare nella propria regione non riesce a fermarsi fino al 22 a Torino, quella stessa esercitazione si potrà svolgere anche online, visto che il sistema d'esame è comunque un sistema online. Quindi l'importante per me, io ci tengo, è che voi proviate a fare questa esercitazione con quel sistema in modo da scoprire eventuali problemi. Ovviamente chi la farà nei laboratori userà, diciamo così, gli stessi computer identici, la stessa configurazione che avremo all'esame, chi invece dovesse collegarsi da casa potrebbe avere problemi aggiuntivi dovuti magari a come ha configurato il proprio computer, la rete eccetera, però vabbè, sono problemi che si risolvono. Tra l'altro noi avremo intenzione, questo sistema diciamo così d'esame, di mantenerlo, se non ci, se i server diciamo così reggono, ma di mantenerlo attivo anche per tutta la durata delle vacanze, quindi potete provare anche poi più con calma anche in seguito, in modo da impratichirvi col funzionamento del sistema. Ma non è nulla di più che semplicemente una coppia di PyCharm che gira dentro la finestra del browser, ecco, tanto per capirci. Ecco, approfittando appunto che cominciamo a avvicinarci a vedere, diciamo così, la parte discendente che va verso l'esame, ho cominciato a condividervi questo foglio che sarà il foglio che vi diamo, il formulario diciamo, contenente le varie funzioni e metodi che abbiamo usato o che conosceremo durante il corso, questo materiale lo potete tenere durante l'esame, lo potete usare e consultare, sia online, nel senso che nel sistema d'esame, se ti cliccate sopra ve lo apre, sia ve lo potete tranquillamente anche stampare se preferite. Ok? Adesso essenzialmente siamo arrivati a questa parte rosa, viola, insomma che colore è questo, delle liste, le parti successive ovviamente non le conosciamo ancora, ve lo condivido così potete già usarlo come riferimento durante gli esercizi senza andare avanti e indietro nelle pagine del libro, nelle slide, se vi accorgete che c'è qualche errore di stampa, qualche cosa che non si capisce come è scritto o altro, me lo segnalate, questa è la versione che avevamo usato l'anno scorso, se ci sono da fare delle piccole miglioramenti o aggiunte, li facciamo in tempo per l'esame, l'obiettivo è di congelarlo all'inizio di gennaio in modo che quella sia la versione definitiva che potete poi stamparvi e portarvi all'esame. Ecco io ne approfitto per rivedere insieme cosa dice qua sulle liste, che sono le cose che abbiamo visto insieme la settimana scorsa e su cui oggi proveremo mettere in pratica. Quindi si può creare una lista elencando i suoi elementi tra parentesi quadre e eventualmente queste parentesi quadre possono essere vuote, cioè crea una lista vuota di zero elementi. La lunghezza di questa lista si può ottenere, torno alla pagina indietro, col metodo len. Ecco la prima in questo foglio, la prima colonna si chiama operazioni comuni e ci sono operazioni che valgono in generale, vabbè range, input, out e print, e poi ci sono dei blocchi che si chiamano per tutti i contenitori per tutte le sequenze. Allora sia le liste che le stringhe sono contenitori e quindi si applica tutto ciò che c'è scritto qua, infatti noi abbiamo visto che se una lista posso usare la funzione len per ottenere la lunghezza, su una string anche potevo usare la funzione len per ottenere la lunghezza. Quindi quando parlo di contenitori intendo sia le liste che le stringhe e queste sono anche sequenze, nel senso che sono indicizzabili attraverso un indice numerico. Ciò che è indicizzabile attraverso un indice numerico in Python si chiama sequenza. E quindi si applicano anche questi vari metodi, tipicamente estraggo l'iesimo elemento, estraggo una slice, una fetta di elementi, quindi lo slicing che funzionava sulle stringhe funzionerà anche sulle liste, esattamente nello stesso modo perché entrambe sono due varianti di una stessa grossa famiglia che è quella delle sequenze. Queste due parti sono separate perché poi conosceremo dei contenitori che non sono sequenze, cioè in cui gli elementi non sono ordinati con un indice numerico e quindi si appliceranno queste funzioni e non quelle sotto. Però queste funzioni qui, contenitori e sequenze, tutte queste immaginatevele che si applicano su tutte le stringhe e anche su tutte le liste. poi c'è scritto in fondo, in una piccola leggenda in fondo, che una sequenza può essere una lista, una stringa o una tupla, mentre un contenitore può anche essere insieme a un dizionario, ma ci arriviamo poco per volta. Quindi parlavamo di liste, oltre a creare una lista, interrogare la lunghezza della lista, verificare se un elemento è contenuto in una lista, i con l'operatore in funzionava sulle stringhe e funzionava anche sulle liste, fare la somma degli elementi nel caso in cui il contenitore contenga dei numeri, trovare il valore massimo o minimo degli elementi di una lista nel caso in cui la lista contenga o tutti i numeri o tutte le stringhe. Questo non l'abbiamo visto, clear vuota la lista, elimina tutti gli elementi della lista. Quindi data una lista la trasforma in una lista vuota, modificando la lista stessa. Non crea un'altra lista che sia vuota, ma prende gli elementi di quella lista e li cancella tutti. Ricordiamoci sempre che tutte le domande, ogni volta che vediamo un'operazione su una lista dobbiamo sempre chiederci sta modificando questa lista o ne sta creando una nuova. Poi c'è la funzione sorted che mette in ordine gli elementi, c'è un metodo count, l'avevamo già visto sulle stringhe, che mi restituisce quante volte c'è un elemento, quindi in mi dice se c'è, count mi dice quante volte c'è e poi ci sarà l'index che mi dice dov'è, estraggo un singolo elemento, estraggo una porzione di elementi. Questi sono i metodi generali che valevano già anche sulle stringhe, in più sulle liste abbiamo visto la creazione di una nuova lista, la concatenazione, il confronto di uguaglianza, il metodo pop che cancella un elemento da una lista e di questo metodo ci sono due varianti, con zero argomenti cancella l'ultimo elemento, specificando un argomento questo argomento sarà l'indice dell'elemento che voglio uccidere, che voglio togliere e in più mi dice anche che l'elemento cancellato viene restituito, quindi io cosa posso fare? Ho una lista, faccio pop, quella lista si accorcerà di un elemento, ma il risultato del pop è l'elemento stesso che ho tolto, quindi lo posso prendere, usare, stampare, aggiungere un'altra lista, ho detto l'elemento che viene distrutto, non è vero, viene sganciato dalla lista e mi viene restituito, se voglio lo posso usare, se non mi serve non lo uso semplicemente. Per aggiungere invece elementi ho il metodo insert e il metodo append, la cui differenza l'abbiamo visto una volta scorsa, append aggiunge sempre in fondo, mentre insert aggiunge a metà della lista o all'inizio della lista, più in generale nella posizione indicata da i. I metodi di ricerca sono count, che mi dice quante volte è presente un elemento, index che mi dice la prima posizione in cui un certo elemento è stato trovato, oppure io la index la posso costringere a cercare un elemento solo all'interno di un certo range di indici da i a j, quindi non cercarmi questo valore ovunque nella lista, ma solamente nella seconda metà ad esempio, fornendo chiaramente l'inizio e la fine del range come parametri aggiuntivi. Remove, non so perché l'ho scritto qui, perché forse era meglio scriverlo vicino a pop, cancella un elemento, anche qua della lista, con una differenza drastica. Pop cancella un elemento di cui conosco la posizione, l'indice i. Remove cancella un elemento di cui conosco il valore, il valore x. Cosa fa Remove? Cerca se c'è il valore x dentro la lista, se c'è lo cancella. Mentre Pop non cerca nulla, gli dice cancellami il quinto elemento, qualunque cosa ci sia, lui la cancella. Quindi l'argomento di Pop è un indice, la posizione, l'argomento di Remove è un valore, cioè un elemento che potrebbe essere contenuto nella lista, anzi che deve essere contenuto nella lista, perché se provo a fare Remove di qualcosa che non c'è, il programma si blocca con un errore. Value error, mi è passato un valore che non conosco, che non trovo. C'è il metodo extend che concatena una lista a un'altra lista, e di nuovo bisogna fare attenzione, l'avevamo ci assicciato la volta scorsa, alla differenza tra extend e append, anche se fanno rima, append aggiunge un elemento a una lista e quindi se x è un elemento la lista avrà un elemento in più, extend invece aggiunge un'altra lista, che ho chiamato L1, a una lista data. Quindi l'argomento di extend deve essere una lista, non può essere un singolo elemento. Non avevamo visto, ma vediamo adesso il metodo reverse, che rovescia l'ordine degli elementi in una lista, modificando la lista stessa. Quindi la lista contiene elementi 178, L.reverse sarà 871. Indipendentemente, non mette in ordine nulla, semplicemente le ordine, le inverte rispetto alla posizione in cui si trovavano. Poi abbiamo visto che per creare una coppia di una lista esistente, usavamo il metodo list di una certa variabile per ottenere in una nuova variabile una coppia nuova identica alla lista di partenza e normalmente si usa questo, esiste anche un metodo copy che fa la stessa cosa e poi il metodo sort lo mette in ordine alfabetico. Enumerate l'abbiamo visto quando parliamo dei cicli for, dove si poteva ciclare o sull'indice, ricordate che avevamo scritto for in range di lang di lista, quindi creavo una variabile di controllo intera che ciclasse sui valori numerici degli indici delle posizioni di una lista oppure ciclavamo direttamente sugli elementi for valore in lista. Con Enumerate riusciamo a fare entrambe le quote contemporaneamente, riusciamo a fare un ciclo che mi dia ad ogni interazione sia l'indice che il valore, se mi serve. Questo era quello che abbiamo visto insieme nell'ultima lezione, l'abbiamo riassunto qua, ce lo ritroviamo nel foglio. Ciò che non avevamo visto ancora, che in realtà già conosciamo, è lo slicing di una lista, cioè un operatore di porzione con i due punti. In realtà conosciamo già quasi tutto di questo operatore perché l'abbiamo già usato più volte con le stringhe per estrarre una porzione di una stringa. Allora applicato a una lista come funziona lo slicing? Beh, anche lui ovviamente estrae, qui c'è uno slice 6-9, quindi estrae 3 elementi, 9-6 fa 3, e in particolare quello di indice 6-7-8, perché ovviamente è l'indice di arrivo sempre escluso. L'operatore di slicing crea sempre una nuova lista, non va mai a modificare, visto che estrae una piccola sottolista, quella originale la lascia immutata. E fin qua già lo conoscevamo anche se l'avevamo usata con le stringhe. E anche le varie scorciatoi del tipo sottinteso il primo elemento, sottinteso l'ultimo, sottinteso entrambi, eccetera, continuano a funzionare. Tra l'altro questa variante in cui sono sottintesi entrambi il primo e l'ultimo argomento, che sulla lista non l'abbiamo mai usato perché non serviva a nulla, qui in realtà ha una sua utilità perché crea una nuova lista con dentro tutti gli elementi dal primo all'ultimo della lista di partenza. Quindi se vogliamo un terzo modo di fare una copia nuova di una lista esistente. Forse sintaticamente è un po' curioso, ma scrivere questo, scrivere list di una lista o scrivere lista.copy hanno lo stesso risultato. La variante che invece con le liste non potevamo fare è che con le stringhe non potevamo fare, con le liste si può modificare una porzione, uno slice. Possiamo avere uno slice anche a sinistra del segno uguale. Quindi vuol dire che ovviamente a destra del segno uguale dovrò avere una lista. Quindi vuol dire che io prendo la mia lista temperature e ne modifico i valori contenuti nelle posizioni 6, 7, 8, rimpiazzandoli con 45, 44, 40. Quindi in un'unica istruzione vado a modificare, fatemi tornare indietro dove è una definita temperatura, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, sono questi tre numeri qua, quelli di indice 6, 7, 8, il 39, il 36 e il 30. Verranno modificati da questa istruzione con 45 al posto del 39, 44 al posto del 36 e 40 al posto del 30. Gli altri elementi non vengono modificati e la lista rimane lei, non ne viene creata una nuova. Quindi è un'estensione se vogliamo dell'operazione di assegnazione. Quando faccio lista di 3 uguale 0 sto mettendo uno 0 nella posizione 4. Ecco io posso in unica istruzione mettere un certo insieme di valori in una serie consecutiva di posizioni, specificando una slice della lista destinazione e una lista contenente i valori che mi servono. Questo ovviamente sulle stringhe non lo potevamo fare perché una stringa non si può modificare. Con le liste sì. E allora la domanda, qua l'ho fatta facile perché avevo identificato una slice, una fetta di 3 elementi e l'ho sostituita con una lista di 3 elementi. Quindi quei 3 lì verranno sostituiti, i 3 elementi della slice sono sostituiti dai 3 nuovi valori. Ma cosa capita se io avessi una lista qui che fosse più lunga oppure più corta della porzione che ho indicato? In questo Python è furbo nel senso che se io do una lista più lunga lui fa spazio, allarga la lista, quindi ovviamente se io avessi una lista di 6 elementi i primi 3 vengono messi in queste 3 posizioni, poi crea 3 posizioni nuove spostando destra gli altri elementi e aggiunge quei 3. Viceversa se questa lista fosse più corta accorcia la lista. Definitiva. Quindi se io in una porzione da 3 metto un elemento solo, la lista finale si accorcerà di 2 posizioni perché non sono riuscito a rimpiazzare, non ho voluto rimpiazzare tutte le 3 posizioni. Qui ci sono alcuni esempi. Temperature della serie 10 uguale a 3, 2. Dunque, cosa stiamo facendo qui? Allora, la porzione della serie 10 è una porzione lunga 4 elementi, 10-6 fa 4. 4 elementi nelle posizioni 6, 7, 8, 9 che viene rimpiazzata da una lista di due soli elementi. Quindi il 3 andrà a finire nella posizione 6, il 2 andrà a finire nella posizione 7, la vecchia posizione 7 e 8 vengono cancellate e ciò che stava dalla posizione, le vecchie posizioni 8 e 9 vengono cancellate, quindi nella posizione 6 va il 3, nella posizione 7 va il 2, le vecchie posizioni 8 e 9 vengono cancellate e ciò che stava dalla posizione 10 in avanti viene riportato indietro dalla posizione 8 in avanti, viene riportato indietro i due posti. E la lista si accorcia di due posizioni. Perché io ho sostituito una porzione da 4 con una lista da 2. Qui c'è l'operazione inversa in cui prendo una lista di due posizioni, la posizione 6 e 7 e la rimpiazzo con una lista di 5 elementi. Quindi in questo caso la lista si allunga di 3 elementi, i primi 2 e 3 vanno sostituire ciò che c'era prima nella posizione 6 e nella posizione 7, gli altri 3 vengono inseriti tra la vecchia posizione 7 e la vecchia posizione 8 e la vecchia posizione 8 diventerà 9, 10, 11. E come casi particolari c'è anche la possibilità di cancellare degli elementi elementi dentro una lista. Definisco una porzione di lista di due elementi e dico vabbè al posto di questi due metterci la lista vuota. Quindi semplicemente ho cancellato, è come aver fatto due pop dell'elemento 6 e dell'elemento 7. Poi ci sono le cose del genere per chi piace fare parentesi quadre, vuote, che è quello di dire io prendo una porzione di tutta la lista intera e la sostituisco con una lista vuota, cioè svuoto, cancello la lista, ma c'è un metodo clear che è più chiaro per fare la stessa operazione. Queste sono, e poi qui ci sono un po' di tabelle che lo riassumono, ma noi come vi ho detto abbiamo cercato di riassumere queste stesse cose nel foglio che vi abbiamo dato, riassumono essenzialmente quelle che sono le funzioni e i metodi che lavorano sulle liste. Adesso, va bene, quello che ci serve però è imparare a lavorarci con queste liste. Quindi anche qua facciamo un po' di, come avevamo già fatto sulle stringhe, facciamo un po' di ginnastica, ok? Prendiamo un po' di esercizi, un po' di esempietti semplici per sviluppare alcune funzioni di base. Ad esempio la prima funzione che dovremmo sempre fare è creare una lista di cui conosciamo, diciamo così, la regola per comporla. La regola per comporla può essere o una regola in questo caso aritmetica oppure la regola può essere leggi dall'utente. Allora, quando noi abbiamo visto gli esempi precedenti in cui creavo una lista scrivendo temperatura uguale, aperta quadra e scrivevo i valori, è una situazione non tanto realistica perché quasi mai conosco già quali sono i valori di una lista all'inizio. O me li devo calcolare o li devo acquisire dall'utente. E quando li devo acquisire o calcolare li calcolo 1 per volta. Quindi nella maggior parte dei casi, apriamo un file esercizi liste per non creare 100 file piccoli, immaginiamo che qualcuno mi chieda di riempire una lista, di creare una lista che contenga i quadrati dei numeri interi, da 0 a n. Ok. Allora, significa che prima di tutto devo acquisire il valore di n, int input n, e poi dovrò costruire una lista con i quadrati dei numeri. Inizialmente questa lista la creerò vuota per poi aggiungerci uno per volta i vari quadrati man mano che li calcolo. non posso scrivere uno, due, tre, scusate, uno, quattro, nove, perché poi quando mi fermo e poi lo faccio a mano, non sto facendo fare al computer. Allora, partiamo da una lista vuota, calcoliamo i quadrati dei valori interi dalla 0 a n, e questo lo sappiamo fare, perché basta prendere un ciclo in cui prendiamo un indice i e lo facciamo variare in un range di valori interi tra 0 e n, quindi devo creare un range che va da, come valore iniziale 0, valore finale n più 1. Il mio esempio arrivava fino a n quadro. Se arrivo fino a n quadro, n è l'ultimo valore e quindi il range, devo indicare il valore terminale del range che è sempre il primo valore escluso. Quindi ricordiamoci di mettere n più 1, altrimenti il mio range si fermerà a n meno 1. Io questi qua li so calcolare, se io faccio i per i, li calcolo, li stampo, n uguale 5, mi stampa i quadrati dallo 0 al 5. Ma io adesso non li voglio stampare, li voglio memoridare tutti in una lista man mano che li calcolo. Allora, anziché stamparli semplicemente userò append del valore che voglio appendere, append con la d, del valore che voglio appendere. Quindi se faccio run adesso, metto 5, lui non mi stampa nulla ovviamente, ma posso stampare il valore della lista. Fatemi la stampare dentro il ciclo, così la vediamo costruirsi. Se la stampo dentro il ciclo, vedo che questa lista inizialmente era vuota, poi comincerà a avere il quadrato di 0, poi aggiungo anche il quadrato di 1, poi aggiungo anche il quadrato di 2, poi anche il quadrato di 3 e così via. Quindi normalmente per costruire i valori di una lista io parto da una lista vuota e poi ci aggiungo gli elementi dentro. Ecco, a differenza di altri linguaggi di programmazione non mi serve all'inizio dire già quanti elementi dovrà contenere la lista. In altri linguaggi dimensiono prima la lista e poi la riempio, invece qua non la dimensiono, non do una dimensione finale, man mano che mi serve aggiungo. Aggiungo ogni elemento nella sua posizione. Potrei essere tentato di scrivere questo, che è la stessa cosa. Cioè il quadrato di 0 in questo esercizio qua doveva finire, va nella posizione 0, il quadrato di 1 va nella posizione 1, il quadrato di 3 va nella posizione 0, 1, 2, 3 e così via. Quindi anziché usare questo appendestrano potrei dire calcola il quadrato di i e mettilo nella posizione i della lista. Quindi questo dovrebbe fare la stessa cosa se funzionasse, ma non funziona. Perché non funziona? Perché quando arrivo qui la posizione i nella lista non c'è ancora, non esiste ancora. Ok? Perché la prima volta la lista, quando i vale 0, la lista contiene 0 elementi. Quali sono gli indici validi di una lista vuota? Nessuno. E quindi anche i quadrati di 0 indica un elemento in posizione 0, ma l'indice 0 non è ancora valido. Non è valido. Quando la lista contiene 3 elementi, 0, 1, 2. Io cerco di aggiungere un quarto elemento indicizzando quadrati di 3 e la 3 non c'è ancora. Qui non posso mettere. Quindi l'operatore di assegnazione non crea mai una nuova casella, semplicemente modifica il valore di una casella esistente. Questo vale sia quando assegno su una casella singola, sia quando assegno su una porzione. Devo sempre identificare qualcosa che esiste dentro cui metteci dei numeri. Uno potrebbe dire, ma noi non lo facciamo, lo facciamo con appenne, ma se ci servisse, quello che noi potremmo fare è inizializzare una lista con n valori, anzi n più 1, anziché partire da una lista vuota. Non mettiamo 0 che non mi piace, mettiamo meno 99, così si vede. Cosa ho fatto qua? Meno 99 è una lista che contiene un elemento solo, un valore sentinella, no? Un valore che non è valido. Lo riconosco facilmente. Questa è una lista di un elemento. Moltiplico una lista per un intero, ottengo la replicazione della lista per n più 1 volte. Allora, cosa faccio? Sto predisponendo n più 1 caselle che a questo punto esisteranno, nelle quali andrò 1 per volta a mettere i vari valori. Se faccio RAM questo dovrebbe funzionare. La prima volta ho messo 0 nella prima casella e il resto della lista si vede che è ancora pieno di valori sentinella. Ma ho creato già subito lo spazio per tutti gli elementi che mi serviranno. In Python questo non è di solito un modo di procedere. Si può, ma è abbastanza innaturale. Creare dei posti in cui ci metto un valore finto, magari ci metto non proprio meno 99, ma per far vedere che è più finto ancora. Ricordate, avevamo conosciuto il valore non che diceva nessun valore. Allora crea una lista piena di niente, però capite che anche dal punto di vista filosofico è un po' una forzatura, no? Quindi questi meccanismi a volte serve creare prima una lista perché magari non devo riempirla in ordine. Magari mi arriva prima il quinto elemento e poi il terzo e allora devo poter mettere il quinto ma non ancora il primo, il secondo, il terzo, il quarto e allora dove lo metto? Allora in questo caso magari mi servono trucchi di questo genere. Comincio a fare spazio e metto gli elementi man mano che arrivano. È buono saperli queste alternative, altrimenti il modo normale chiaramente è quello di usare append, che è il pattern di programmazione più naturale nella creazione di una lista. Va beh, adesso noi non vogliamo nel nostro programma stampare la lista ogni volta che arriva un elemento, la stampiamo solamente alla fine, quindi ciò che faccio è tolgo il rientro sotto questa print e stampo solo il valore finale. Stampo il valore finale ma non mi piace stampato così, no? Perché ha le parentesi quadre. Mi piacerebbe stampare solamente i numeri separati da virgola. Allora, già la print di per sé riceve tranquillamente una lista e se cerco di stampare una lista me la stampa, mi stampa in tutti i singoli elementi con la sua sintassi, parentesi, quadri e virgole. Già altri linguaggi non lo fanno, quindi è già comodo. Però non è nel formato che mi piace, immaginiamo di volerlo stampare, ad esempio, senza quante parentesi quadre, ma separati da virgola sulla stessa riga. Allora, come possiamo fare a stampare questa lista in un modo più esteticamente gradevole? Beh, visto che non mi va bene il modo in cui la print decide di stampare la lista in un'unica istruzione sola, me la stampo io un po' per volta. Faccio un ciclo in cui stamperò un elemento per volta e ci metto la virgola sotto. Quindi farò for valore in quadrati, stamperò il singolo valore seguito da una virgola, da uno spazio e gli dico di non andare a capo. E andrò a capo una volta sola dopo che ho finito di stampare. Quindi ciclo sui valori della lista e per ciascun valore che faccio lo stampo. Lo stampo circondato dai separatori che voglio mettere, la virgola e lo spazio. E così non mi mette quelle bruttissime parentesi quadre. Giusto? Non mi mette le... questa è la print vecchia, no? Questo è l'output che ottengo a questo mio cicletto for qua, in cui ho stampato un valore per volta. che va bene ma c'è un pezzo di troppo. C'è la virgola anche dopo l'ultimo elemento. Giusto? Quindi questa virgola non la vorrei. Come facciamo a non stampare questa virgola? Non la stampo all'ultimo valore. Ma come faccio a sapere qual è l'ultimo valore? Perché è facile da dire, if non è l'ultimo valore, stampa questo, altrimenti... altrimenti è l'ultimo, stampalo senza la virgola. Senza la virgola, senza lo spazio, è però così. Cosa ci metto? Come? Così? dell'ultimo elemento. L'ultimo elemento di una lista può essere scritto così. Meno 1. Oppure, l'abbreviazione, si usano gli indici negativi. Gli indici negativi partono dal fondo, quindi si usa per indicare l'ultimo elemento e indicare l'indice meno 1. Allora, questo sembra fare qualcosa di meglio. Chi mi sa dire qual è la condizione per cui questo funziona? Lasciamo perdere questo programma. Voi vedete solo questo frammento di codice. Qual è la proprietà che deve avere la lista quadrati affinché questo programma sia corretto? Non deve contenere duplicati. Non deve contenere valori doppi. Ok? Questo test qua è un test fragile. Nel nostro caso funziona perché l'unica volta in cui trovo l'ultimo elemento è proprio nell'ultima posizione. Ma se un elemento ci fosse in più di una posizione lui mi ometterebbe la virgola tutte le volte che trova quell'elemento lì che guarda caso è anche uguale in valore all'ultimo. Allora come fare a farlo un pochino più robusto? Perché poi rischiamo questo codice qua di usarlo in un caso in cui invece non si può usare. Qui per costruzione sono tutti diversi i valori quindi va bene. Ma se volessimo rimuovere questo vincolo in più come facciamo a scrivere in un modo diverso questa condizione? È l'ultimo elemento. Come faccio a sapere se sto per stampare l'ultimo elemento? Devo avere l'indice. Non c'è soluzione. O li conto man mano che li stampo ma tanto vale a questo punto avere l'indice. Sto d'accordo? Allora io ciclo non sui valori ma su valore indice usando enumerate che mi dà sia l'indice che il valore ad ogni iterazione e a questo punto questo test diventa facilissimo. i diverso la lenghe di quadrati meno uno e il test lo faccio sull'indice quindi non mi interessa quali siano i valori contenuti ma il fatto che tu sei nell'ultima posizione fa sì che io ti stampi in modo diverso. e qui a questo punto potrei anche con questo trucco qua controllare il primo se i è uguale a zero allora il primo elemento magari lo tratto in un modo particolare l'ultimo elemento è dotato in modo particolare e quelli di mezzo invece li stampo in modo diverso. Quindi facciamo sempre attenzione cerchiamo sempre di concentrarci se una certa decisione una certa scelta una certa operazione va fatta sull'indice 0, 1, 2, 3, 4 oppure sul valore che ci sta dentro. Sui valori non possiamo normalmente mai fare l'ipotesi che siano univoci. Tra l'altro questo stesso programma io lo scriverei in un modo diverso questo stesso frammento di codice lo scriverei in un modo più breve dicendo abbiamo fatto prima era così no? Prima che lo complicassimo un pochino e mi stampava anche l'ultimo che non volevo e allora stampamoli tutti tranne l'ultimo questa è la lista dei quadrati crea uno slice che va da 0 sottointeso all'ultimo elemento meno 1 escluso quindi il mio ciclo non va più a iterare sull'intera lista e poi mi devo fare problemi in questa lista ma tu sei il primo elemento o sei l'ultimo? No l'ultimo lo lascio da parte e lo stampo a parte sotto e non metto neanche più end uguale virgolette così in un voto solo stampo l'ultimo elemento e vado a capo quindi il pensiero è o itero sull'intera lista e pro dei casi particolari dell'iterazione oppure itero su una porzione di lista in cui sono sicuro di non avere casi particolari ovviamente gli elementi che ho lasciato fuori da questa porzione mi hanno gestiti a parte quindi o il primo o l'ultimo lo farò prima del foro oppure dopo il foro c'è ancora un piccolo dettaglio che questo stampo è il valore sbagliato vedete che qua c'è 16-16 e non 16-25 cosa ho sbagliato e ho usato la variabile di controllo del ciclo v fuori dal ciclo stesso già puzza se quella variabile la creo per gestire il ciclo poi dopo che il ciclo è finito la vai a usare e quella cosa ha? ha mantenuto il valore che aveva nella sua ultima iterazione che ha fatto cioè 16 e poi chi è che gli ha detto di andare a prendere il valore successivo? nessuno ok la variabile del controllo di un ciclo quando esce dal ciclo mantiene il valore che aveva nella sua ultima iterazione nel caso di un range o di una o di un contenitore l'ultimo valore del contenitore nel caso invece di un ciclo while fatto incrementando il contatore sarà il valore che ha reso falsa la condizione del while quello è il valore che mi trovo dopo il ciclo quindi l'ultimo elemento non lo posso chiamare v dovrò pescarlo quadrati di meno uno non è che vado lontano però a volte sembra quasi ma sulla riga sopra ho stampato v andava tanto bene la riga sotto perché non va bene v è perché v è una variabile che immaginiamoci da nascere morire e vivere dentro il ciclo 4 i matematici la chiamerebbero una variabile muta che ha senso solamente dentro con l'espressione e adesso forse funziona sono come sempre dicevo ginnastica operazioni molto semplici ma che ci servono per un po' ragionarci usarle un po' come rompicapi dimmi il print il print alla riga 14 mi serve perché se lo cancello dopo che ha stampato questa prima riga il cursore di stampa rimane bloccato dopo il 5 non va a capo e quindi le print successive rimangono appiccicate ok questo print qua la riga 14 io ho stampato dei numeri senza mai andare a capo questo end uguale a virgolette fa sì che non venga mai aggiunto il barra n e il carattere di a capo quindi vuol dire che dopo il 25 qua sono rimasto qui e qualunque cosa io stampi dopo la stamperà attaccata sulla stessa linea se il programma fosse finito qui ma è sempre bene una riga a terminarla perché altrimenti anche questo questo qui verrebbe stampato attaccato questo messaggio finale io devo stampare una riga contenente di numeri ok la riga contenente di numeri è fatta dai numeri e poi il terminatore di riga qui però è solo esclusivamente per andare a capo dove ci serve allora questo è un modo per in questo caso appunto stampiamo i contenuti di una stringa separati in un certo modo noi potremmo voler ristampare ma potremmo anche voler ad esempio costruire una stringa che contiene questa cosa qua per poterla magari stampare in un altro momento o passare una funzione che poi me la stamperà in un certo posto o me la salva in un'altra lista da sapere quindi immaginiamo cambiamo un po' l'obiettivo l'obiettivo non è più stampare questa cosa con le virgole con gli spazi fatta bene ma costruire una stringa che abbia questo contenuto perché a volte i valori li calcoliamo ma non li vogliamo stampare subito li vogliamo mettere da parte per usarli dopo allora in questo caso cosa posso fare vabbè uso lo stesso meccanismo però anziché fare delle print aggiungerò in coda una stringa un po' come facevamo già quindi prenderò una stringa stampa uguale stringa vuota e ci metterò dentro for v in usiamo l'ultimo metodo che forse è quello più breve e cosa farò s stampa uguale stampa più questa stringhetta qua e poi alla fine stampa uguale stampa più il valore di v dell'ultimo elemento che l'avevo già sopra quindi lo posso mettere più vediamo che stiamo stampando diversamente sotto c'è cosa ho fatto semplicemente se non guardo la riga 24 che fa effettivamente la stampa tutto il resto il programma sta elaborando le sue variabili e semplicemente costruendo una stringa la cui rappresentazione è ciò che avrei stampato per carità però anche qua costruire una stringa significa costruirla un pezzo per volta una variabile per volta con un'attenzione in più perché io ad esempio qua alla riga 18 ho fatto tutto un giro ho creato una stringa formattata che contiene un numero vabbè però scurmi la print non è scema me lo stampa già da sola lei il numero giusto? non siamo mai posti problemi quando dobbiamo stampare un numero infatti questo 25 viene benissimo attenzione che non potrei fare la stessa cosa sotto se io togliessi questo avrei un problema perché starei cercando di concatenare a una stringa un intero quindi mi aspetto un bel errore qua infatti può solo concatenare stringhe a stringhe non interi e quindi in questo caso l'abbiamo già fatto quando giocavamo con le stringhe ma vale la pena ricordarlo potrei magari fare un altro usare la funzione str per convertire in stringa quell'intero lì così lo posso concatenare tanti piccoli pezzettini che ci giochiamo in modo diverso con la f string con la str è uguale alla fine prendo un numero e lo converto in stringa se devo solamente convertirlo va a str forse anche più leggibile se invece devo anche formattarlo come vedete ho preso il numero ma ci ho anche messo la virgola ci ho anche messo lo spazio allora probabilmente la f string è più compatta però sono tutti metodi equivalenti talmente equivalenti che esiste anche già un metodo in python per fare questa operazione di costruire una stringa a partire da una lista mettendo insieme i vari elementi in ordine separandoli con un certo separatore questo è un metodo che si chiama join e funziona così definisco cosa abbiamo fatto qua noi abbiamo avevamo una lista e un separatore il separatore era la virgola abbiamo fatto questo ciclo per inserire questo separatore tra coppie di elementi adiacenti della lista tranne il primo e l'ultimo ecco la stessa cosa la posso fare usando il metodo join indicando il separatore punto join la lista questo quando lo vediamo scritto così è un po' strano perché normalmente siamo abituati a chiamare un metodo punto su una variabile lista punto sort in realtà non è che debba essere proprio una variabile in questo caso è una stringa costante è sempre una stringa e quindi avrà tutti i metodi delle stringhe compreso il metodo join che riceve come argomento una lista e crea una stringa esattamente come abbiamo fatto noi prima in cui i vari elementi della lista sono separati da questo separatore quindi se io provassi a stampare adesso questo magari al posto degli asterischi ci mettiamo dei punti esclamativi così lo riconosciamo che l'abbiamo fatto nel blocco successivo sì bravo ecco sbagliato ah certo ok la funzione join che è indicata qui mi ero dimenticato un dettaglio vedi che bisogna leggere bene ritorna una stringa che è la concatenazione delle stringhe nell'argomento nell'oggetto iterabile quindi per funzionare è necessario che prima la lista contenga stringhe e non contenga numeri ok quindi il motivo per cui ho dato errore che lui si aspettava che questa lista quadrati contenesse forse una lista di stringhe e non una lista di numeri io ho una lista di numeri lui vuole una lista di stringhe gli do una lista di stringhe come faccio come faccio come faccio a costruire una lista di stringhe a partire da una lista di numeri chiamo str su ciascun stringhe un elemento quindi posso creare una lista quadrati s che sarà il contenuto di quadrati di quadrati ma come stringa valori di stringa e in cui semplicemente per ogni elemento v in quadrati 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 quelle che contiene i numeri aggiungerò a quadrati s punto append strdv allora facciamo funzionare poi la commentiamo quadrati s ok questa qui allora cosa ho fatto vabbè mi piaceva questo metodo join perché mi evitava tutto il lavoro di prima quindi con join prendo una stringa da usare come separatore e una lista con i valori da stampare bene a spese mie mi sono accorto che questa lista con i valori da stampare vuole assolutamente avere delle stringhe una lista di stringhe e non una lista di interi allora per potergli dare una lista di stringhe ho dovuto costruire una lista di stringhe con un certo contenuto ecco qua allora costruire una lista con un certo contenuto tank mi scatta subito questo meccanismo parto da una lista vuota e si aggiungo uno dopo l'altro gli elementi che mi servono questo meccanismo qui è lo stesso che abbiamo adottato qua mi serve una lista che contenga puntini puntini parto da una lista vuota e un ciclo che aggiunge via via gli elementi che mi servono in questo caso erano i quadrati dei numeri interi in questo caso sotto erano le stringhe di valori che avevo già in un certo senso quando io devo ho una lista che contiene dei valori devo costruire un'altra stringa che contiene un'elaborazione su questi valori quasi sempre dovrò scrivere tre righe di questo genere parto da una stringa vuota per ogni elemento da elaborare aggiungo il valore calcolato non ve lo dico oggi ma ci sarà poi una scorciatoia per scrivere queste cose visto che è talmente frequente da costruire una lista partendo da un'altra ci sarà una scorciatoia sintattica ma prima abituiamoci a che cosa fa poi la scorciatoia la impariamo dopo significa solo scrivere dieci caratteri in meno basta mettere sotto inteso appendo e con questo quindi possiamo usare questa funzione join che mi crea una stringa partendo da una lista inserendo un separatore io il separatore adesso ho messo virgola spazio ma avrei potuto mettere quello che volevo potete mettere due trattini o tre trattini per vedere che la lunghezza può essere qualunque e lui me li separa con ciò che dico io è una stringa per assurdo se volessi potrei anche non mettere nulla e i numeri mi vengono fuori tutti belli appiccicati ma magari mi serve in alcuni casi cosa fa join? non fa altro che prendere le varie stringhe della lista e mettere una dopo l'altra e tra ogni coppia di liste tranne l'ultima ci aggiunge la stringhetta che gli ho passato come paramo sulla quale è stato chiamato il metodo prego non ho capito scusami se facessi la lunghezza questa length di stampa quindi quanto è lunga tu dici se lo andasse a controllare a confrontare con la lunghezza ad esempio dei quadrati non c'entrano nulla una con l'altra chiaramente perché stampa è questa stringa qui che ha 18 caratteri 0 virgola spazio 1 virgola spazio 4 virgola 1 6 virgola eccetera eccetera questi 18 caratteri rappresentano 6 numeri che sono i numeri che sono nella lista quadrata qui da un lato abbiamo proprio i valori dall'altro c'è la stringa si passa spesso dalla lista stringhe o da stringhe a lista adesso vi faccio vedere il passaggio inverso dopo che rispondo a lui dimmi sì la funzione join prima del punto ci devi mettere una qualunque stringa quindi questa stringa potrebbe essere separatore uguale dollaro e allora qui scrivi separatore punto join e ti viene fuori con i dollari in mezzo poi che questa sia vedi qua che questa sia una variabile sia scusate qua che sia una variabile che sia un'espressione che usasse tr di qualche cos'altro che usasse una concatenazione a piacere non so uno vuole prima ho fatto tre trattini ma i tre trattini li potevo anche fare con un trattino moltiplicato tre messo ste parentesi tonde perché io voglio prima fare la moltiplicazione delle stringhe poi qua la stringa risultata risultante chiamo il join su questa e quindi mi fa i trattini come prima è chiaro che questa cosa qua è siamo abbiamo una scala discendente in cose sempre meno leggibili senza più contorte quindi sempre meglio non andare a complicare solo perché si può fare è meglio lasciarlo il più possibile chiaro e tipicamente creare delle variabili se hai un'espressione più complicata crea una variabile intermedia in cui calcolo le espressioni quella è separatore e poi dopo lo uso sempre per per fare un favore a noi stessi ok e se invece mi destra il problema inverso cambiamo il problema l'utente inserisce dei numeri ma li inserisce tutti su una riga separati da virgole quindi l'utente inserisce una serie di numeri separati da virgole quindi l'utente adesso il mio esercizio vabbè mettiamo sempre il nostro 5 la serie di numeri ragazzi su io voglio fare qualcosa con 4 7 12 e di nuovo 4 invio perché finora siamo abituati che quando devo acquisire una serie di numeri dell'utente li devo chiedere uno per uno dentro un ciclo che sarà un ciclo forse so già quanti numeri mi servono sarà un ciclo while se invece lo scopro strada facendo ok se noi avessimo questa come facciamo a mettere questi valori dentro una lista allora vediamo prima il caso semplice il caso in cui l'utente inserisce un numero per volta poi lo facciamo dopo questo quindi l'utente inserisce un numero per volta terminando con una stringa vuota va bene allora io cosa faccio devo creare una lista con dei valori inseriti dall'utente la parola creare una lista mi fa subito scattare questo così in automatico creare una lista mi viene in mente creare una lista di numeri allora la inserisce da zero poi avrò un ciclo in cui la riempio ogni volta ci aggiungo un elemento nuovo questi numeri che ora sono questi valori che ora sono sono numeri inseriti dall'utente numeri inseriti dall'utente quindi l'utente inserirà un numero per volta e quindi l'appende lo devo fare di n così facendo dentro questa lista andranno a finire i valori che inserisce l'utente e poi la condizione di terminazione terminando con l'inserimento di una stringa vuota allora abbiamo già capito che quando io devo verificare condizioni di questo genere devo separare l'operazione di input che mi dà una stringa dall'operazione di int che mi dà il valore quindi avrò una stringa inserita dall'utente che la metto in una variabile che chiamiamo s e poi faccio l'int di s e devo ciclare fin tanto che s è diverso la stringa vuota però visto che la s la leggo qui e la condizione ce l'ho sopra dovrò spostare questa input fuori dal ciclo in modo di aver letto almeno una volta prima di entrare nel wild e va bene e se ce l'ho fuori dal ciclo visto che mi serve ad ogni giro dovrò metterla anche come ultima istruzione del ciclo precedente è una cosa che abbiamo già fatto e a questo punto la condizione per cui devo ciclare è che esser sia diverso la stringa vuota allora di questo di nuovo c'è solo questa istruzione qui c'è la 38 e la 42 che sono la materializzazione del concetto di creare una lista nuova parto da vuoto e ci aggiungo una dopo l'altra gli elementi tutto ciò che sta intorno è il modo per trovarli questi elementi prima erano inquadrati i numeri adesso devo inserire l'utente alla fine di tutto questo potrò stampare questi numeri sotto forma di interi dopo che sono uscito dal ciclo Y quindi vediamo un po' numero 3 numero 4 numero 88 invio mi ha creato una lista che contiene 3, 4, 88 questo è relativamente facile standard leggo una volta come abbiamo sempre fatto leggo un dato per volta invio è un po' scomodo se devo inserire molti dati sarebbe più comodo come avevamo ipotizzato di fare qui inserire direttamente una serie di numeri l'utente inserisce i numeri tutti insieme separandoli separandoli con virgole e quindi arriviamo a questa input qua di prima l'input è facile legge poi esce fuori una stringa serie e devo convertire questa stringa in una lista di interi che vadano a prendere i singoli pezzettini cioè noi abbiamo una cosa così 4,88 se l'utente non ha scritto cose strane avrò in mano qua una stringa fatta così e voglio arrivare a una lista fatta così l'intero e come posso fare potrei cercare la virgola dentro questa stringa prendere tutto ciò che c'è prima della virgola e convertirlo in intero e lo metto come primo elemento poi butto via la virgola e guardo ripeto la stessa cosa sulla parte restante di stringa sulla parte restante di stringa cerco la virgola prendo ciò che c'è prima lo converto in intero e così via finché ci sono virgole ci piace? e l'ultimo numero lo devo mettere dopo certo lo devo prendere a parte perché non è seguito da virgola ho chiesto ci piace ma più che altro non è che abbiamo tante alternative cioè le abbiamo ma non le conosciamo ancora quindi l'idea quale potrebbe essere quella di dire finché nella serie ci sono delle virgole e questo in è un in che lavora sulle stringhe perché serie è una stringa in può anche lavorare sulle liste ma questa è una stringa quindi lavora sulle stringhe allora vado a cercare la posizione di questa virgola dentro la mia stringa posizione uguale serie punto come si chiamava index di virgola e il valore e il valore è l'intero del pezzo di stringa che precede questa virgola innanzitutto index non mi spara fuori il meno uno cose strane perché sono sicuro che la virgola ci sia e chiudiamoci che index cerca l'elemento e se non lo trova no genera un errore value error forse era fine che si tornava meno uno non mi ricordo allora il numero il prossimo numero che cos'è? è la parte intera della parte di stringa che arriva fino alla virgola è esclusa esclusa quindi serie è tutta la stringa di qua pose la posizione della virgola serie di zero pose è la parte di stringa che va dall'inizio fino alla posizione in cui si trova la virgola esclusa non ringrazieremo mai abbastanza chi ha inventato che i range devono essere esclusi punto di arrivo altrimenti avremo un meno uno qua che ci dimenticheremo di sicuro ci piace? allora se ci piace lo possiamo aggiungere alla mia lista numeri che sto costruendo con tanta fatica che parte da vuota e ci appende numero vediamo un po' cosa esce vabbè dobbiamo fare andare avanti tutte le cose di prima ma allora inseriamo abbiamo detto 3 4 88 scusate questo va in loop infinito colpa mia va in loop infinito perché questa condizione se è vera all'inizio cioè se questa cosa qua contiene almeno una virgola sarà vera all'infinito perché non c'è nulla che modifichi questa condizione mi sono dimenticato di aggiornare la variabile di controllo del ciclo 30 frustate qual è la variabile di controllo del ciclo? serie quindi dopo che da serie ho estratto il numero il numero l'ho travasato nella lista che si stava ingrossando di smisura per fortuna non lo vedevo devo abbiamo detto prima togliere i primi elementi dalla stringa in serie come faccio a togliere beh togliere tutto ciò che parte dall'inizio e arriva fino alla virgola compresa ma perché non si può togliere una stringa si può prendere il resto prendere ciò che segue la virgola fino a un fondo due punti fino alla fine prego allora lui mi dice facciamo un ciclo for sui caratteri della stringa e andiamo a vedere se questo carattere è una virgola oppure è un numero però ti frega l'88 perché andresti prendere l'8 e mi aggiungeresti nella lista un 8 singolo non il numero 88 quindi dovresti avere una complicazione in più di dire se ho dei numeri consecutivi non li converto uno per uno ma aspetto di averli tutti questo lavoro lo stiamo facendo andando a guardare non i numeri ma i separatori allora vediamo se così funziona meglio 3 4 88 funziona benino col problema che ha detto la vostra compagna di prima vediamolo su una lista più lunga per capire se il problema vediamo proviamo a avere dei numeri mettiamo degli spazi più o meno strani così qui ci sono un po' di problemini ancora no? Allora qui ho messo gli spazi male proviamo a rimetterli bene e risolviamo un problema per volta allora se ho più numeri l'ultimo non mi viene preso ma questo è chiaro no? perché quando io pendo questo numero è quando ho trovato una virgola e la virgola è sempre dopo ogni numero tranne dopo l'ultimo giusto? allora l'ultimo come lo gestisco? Lo gestisco parte quando io esco da questo ciclo while la stringa serie conterrà l'ultimo numero e non contiene più virgole non diventa vuota questa lista questa stringa serie prende tutto ciò che ci sarà dopo l'ultima virgola cioè contiene l'ultimo numero e allora come ultima operazione da fare dopo che il while ha finito ci aggiungo ancora i numeri una bella append di int dell'ultimo dei serie serie tutta adesso non devo più prendere solo la prima parte perché è tutto quello che è restato come? ci fosse una virgola alla fine non sarebbe scritto bene questa stringa qui abbiamo detto che sono dei numeri separati da virgola quindi il separatore è tra ogni numero e quello successivo non è dopo l'ultimo se no avremmo detto numeri terminati da virgola ogni numero deve finire con una virgola avremmo un algoritmo diverso andava bene prima senza fare questo le due cose sono incompatibili quindi due quattro cinque sei sette otto nove funziona ovviamente non mettendo la virgola in fondo ecco l'errore che ha dato prima me l'aveva dato quando avevo messo degli spazi in più dove non dovevo no andiamo a cercare di capire anche quell'errore lì ah può essere vediamo un attimo vediamo mettere allora degli spazi a go go proprio gratis tutti i modi strani sì allora avevo sbagliato io a inserire perché gli spazi non mi danno fastidio perché int li ignora int non guarda gli spazi se ci fossero caratteri diversi dallo spazio avremmo un bel dell'errore che mi dice attenzione quel carattere lì non è non è non è un carattere valido per la rappresentazione di un intero abbiamo visto diverse volte questo errore ma lo spazio va bene perché int piace se a int non piacesse lo spazio cosa facciamo uno strip e così toglie gli spazi davanti e dietro prima di chiamare int in questo caso non serve ok allora questo è già un pochino più complicato già come algoritmo ma alla fine i principi sono sempre gli stessi la parte difficile in questo caso è gestire la frammentazione della stringa un pezzo per volta e poi però una volta che ho l'elemento faccio append e mi costruisco la lista facendo sempre attenzione che il primo elemento va trattato in modo diverso ad esempio qua avevamo fatto per il primo elemento le input fuori l'ultimo elemento in questo caso lo devo gestire a parte ma questo ci sta qualunque ciclo di questa terra il primo e l'ultimo elemento devo sempre pensare di a parte per essere sicuri se vengono gestiti dentro il ciclo oppure devo gestire a parte siamo contenti di aver fatto tutto questo perché adesso ci dicono che potevamo evitarlo perché c'è già un metodo pronto che si chiama split che fa proprio questo lavoro nel senso che prende una stringa un separatore come argomento e restituisce una lista delle parole nella stringa usando sep cioè l'argomento come stringa di delimitazione poi c'è il secondo parametro max split che limita il numero massimo di pezzi che vengono fatti ma per il momento non ci interessa poi volevo dire poi c'è sotto mi dice perché visto che mi dice che questo separatore è opzionale volevo capire cosa fa se se non è specificato invece usa un algoritmo diverso e usa di fatto lo spazio come separatore quindi questo metodo split cosa fa prende la stringa e restituisce return a list of the words in the string restituisce una lista quindi costruisce lei una lista i cui elementi siano le singole le parole le singole porzioni di stringa separate usando il carattere separatore ok quindi in questo caso diciamo che quando noi abbiamo letto serie facciamole una copia io avrei potuto quindi dopo che ho fatto questo vediamo proviamo con split avrei potuto calcolare numeri 2 uguale serie 2 punto split sulla virgola split funziona al contrario dal join join prende una stringa come separatore punto join della lista da unire split funziona al contrario prende una stringa da separare e come argomento il separatore il separatore non è l'oggetto con cui chiamo il metodo ma l'argomento del metodo è girato al contrario e restituisce una lista come è fatta questa lista proviamo a fare questo quella difficile diciamo che avevamo messo prima me la copio la incollo qui è già scema non ho stampata allora cosa ha fatto la split questa ultima riga è la stampa di numeri 2 ha preso questa stringa e la divisa dove ha trovato le virgole quindi ha preso una prima parte che andava dall'inizio fino alla prima virgola esclusa che è questa poi ha saltato la virgola e ha preso ciò che rimaneva tra la prima e la seconda virgola che è questa parte qui che è il secondo elemento della lista di numeri ovviamente non sapendo che cosa voglio fare split mi restituisce una lista di stringhe non di numeri qui non è l'ho chiamata numeri ma in realtà contiene stringhe poi prende da qui a qui e mi restituisce un'altra stringa spazio tra spazio e poi l'ultima della virgola in fondo non ho messo come separatore virgola spazio perché se avessi messo virgola spazio non mi avrebbe perso ho di nuovo fatto lo stesso l'ora di prima scusatemi 5 qua serie di numeri se avessi messo virgola spazio lui avrebbe cercato la sequenza virgola spazio tra un numero e l'altro ma ad esempio qua non c'è qui c'è una virgola che non è seguita da uno spazio e quindi tutta questa parte qui l'ha messa insieme come fosse un unico elemento lui va a cercare esattamente quei caratteri lì come separatore quindi separatore deve essere virgola e poi per essere veramente dei numeri io dovrò poi convertirli in numeri stessi come faccio una lista di string a convertirli in una lista di numeri posso convertire la lista stessa for i in range len numeri 2 numeri 2 di uguale int numeri 2 di per ogni elemento della lista lo sostituisco col suo intero e alla fine avrò lo stesso valore queste funzioni join e split sono molto utili dobbiamo solo ricordarci che lavorano sempre come string e se noi dobbiamo lavorare con dei numeri dobbiamo sempre convertire da intero a string a string intero viceversa ok per oggi vi devo salutare ci vediamo mercoledì